Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video dove siamo in un gioco un po' strano chiamato scappa, è uno di quei giochi di fuga dove è molto importante riuscire a salvare niente, qui ci avete la bellissima pubblicità di un gioco, non vi deve pregare niente, è chiamato scappa dall'orso, oh bravo, e adesso ecco, more games, fuck you, ok e ragazzi, perciò mi avvicino alla telecamera, avvicinati, avvicinati, ok ragazzi quindi il crisis abbiamo già fatto ma tantissimo tempo fa, non ci ricordiamo come funziona e maledizione mettiti le cuffie che è scomodissimo avere quel merito, bravo aspettate un attimo, stiamo mettendo a posto ancora che c'è pezzi delle cuffie sulle gambe e ti è arrivato il pacco di cavi sui coglioni, allora quindi, ed ecco qui il gioco ragazzi quindi era una bellissima, stavo facendo una bellissima camminata nel bosco fino a che non arrivò la notte e allora io ho sentito uno strano suono che stava venendo da quello che proveniva da qualcosa di grosso che cos'era? io già smetterei la roba una cabina penso che sia tipo, che cos'è questa? tipo un bungalow, sapete, era una di quelle cassette che trovate in campagna io penso che sia la mia unica possibilità sia quella di correre qui velocemente ah beh le animazioni scadette a me lo ci ha provato e qui ora noi ragazzi, noi abbiamo un orso che ci maledizione quanto sto scomodo fate persone appoggiate quella schiena su di Chris ma non c'è altro modo per me di sto scomodo non sapete quali si messi va avanti, va avanti non ci voleva la festa allora allora qui abbiamo una bellissima rope cos'è una rope? una corda bravo più zero in inglese qui abbiamo un bellissimo casino di roba vecchia qui abbiamo anche delle un casino di roba vecchia qui non possiamo uscire io non voglio veramente uscire per sapere cosa c'è qua fuori ok ah qua ragazzi c'è un enigma abbastanza inutile me lo ricordo io non l'ho, l'ha fatto di Chris ragazzi eh perchè lui è stu e cioè eh si ok si è pieno di carte di sigaretta scatola di sigaretta eh no, dile no controlla qua che c'è roba ecco non serve un cazzo magari un libro che esiste davvero ragazzi cercatelo Aldous Huxley magari esiste davvero un ritratto non è una cattiva scelta non è una cattiva scelta io penso che stia molto bene che veramente molto bene ok giù giù un altro libro ok il donatore di Royce Galloway ma mi sa che esiste quel libro che cazzo l'enigma qua te lo ricordi eh magari ok però niente ah abbiamo preso una cosa di una è un fallout simulator tutto quello che trovi eh si spazzatura solo che qua non ci fa gli armi vecchi i giornali ah un articolo su come difenderti da un libro uno ha un articolo da un orso no l'avevo letto da un libro no questo ah no è come difendere gli orsi gli orsi da difesa delle persone eh volevi e tiri il libro questo qui è per l'alchimista diciamo qualcuno ha detto alchimista qualcuno ha detto cani che abbagliano il porco i tuoi ah aspetta un attimo vai a chiudermi la finestra che tu sei più vicino ah casino io come parlo voi ragazzi adesso ritorni intanto voi lo sapete perché la vita tira anche giù la persiana dovrebbe isolare meglio voi lo sapete perché la vita è noi youtuber noi youtuber ci abbiamo una partnership perché è come dire noi ne abbiamo bisogno perché è una motivazione per poter continuare ad andare avanti altrimenti ci suicideremo prima intanto non ci abbiamo da farneci quindi perché siamo poveri ho un mini barile di vino ubriattamo l'orso bello non è vuoto no aspetta non ho capito un cane pare di mezzo niente sto zitto sto zitto bello ah abbiamo trovato un pezzo di una porta come combattere un orso take my carne e qua c'è c'è e maledetti cani non faglielo sapere che magari non lo sentono ah corno ah c'è questa alce sembra vabbè un alce fai un cazzo io penso che ci sia qualcosa sul retro e qui era inutile ti ricordi che trollate c'è qualcosa qui dietro ma per poter andare dobbiamo spegnere il fuoco ah ecco qua l'ora ecco l'ora ecco l'ora guardate le foto di contadini presi a caso da internet ahahahahah non ha già come facciamo il gioco contadini fine cosa significa allora quella la ok è sulle la lencetta piccola è sulle tre torna indietro c'è scritto su go back go back forca troia non va dammi ok oh madonna mia anche qua nonno giovanni è sulle 3.45 l'orario è sulle 3.45 è sulle 3.45 3.45 3.45 e poi e poi te lo dimentichi magari ti distruggo ti distruggo che cazzo è no nulla si crea nulla si distrugge leggete la materia non penso che potete vedere cosa c'è fuori da questo distancio vabbè qui c'è me la carta e io penso vedere qualcosa si 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 ok quello che hai letto gira gira ma come l'ha messo qua 3.45 ce l'ho detto fino adesso non te lo dico più devi fare più o meno qua svegliale sta azzetto no 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 hai sbagliato che stai facendo l'altro madonna mia non capisci una gara differenza da quella lancetta piccola e lancetta lunga io sono in panico quando sono subito no ho sbagliato vabbè 3.45 e se andavi di là magari non me ne frega niente eh vabbè perchè fate sempre la via più lunga 5.45 guarda oh un jump scherr vabbè ah ok una chiave bene go back thank you go back che cazzo era eh no mi dispiace una chiave la chiave allora la chiave serve a questo ah è vero devi cliccare ok l'ho usata ma che figata è un cesso vediamo un po' qua fuori è sbarrato si può entrare bella finestra per la privacy se ti arriva un osso dalla finestra non diventi più stitico ok oh mio dio adesso avete sentito qua mi ricordo anche io anche non fa il rumore il flusce lo squazzone il cazzo che l'acqua che cade il cazzo che l'acqua che cade il cazzo che l'acqua che cade mettetelo mettetelo in tutti i dizionari il cazzo che l'acqua che cade ho sentito ma c'è qualcosa che fa rumore cerchiamo dentro che c'è una merda ah no un secchio di proiettili ma chi cazzo avete proiettili ah vedo gli americani ah gli americani che si nasconde in casa i proiettili poi quando arrivano sui russi e coreani tesoro arrivano i russi e gli alieni coreani cioè per gli americani la minaccia era presentata dai russi dai coreani dagli alieni dagli arabi dai turchi gli americani proprio staranno benissimo a donald trump dove tutto prende una minaccia cioè se tipo in call of duty entri in casa di un americano sanno più armi loro che te fate con un attimo ripetiti cioè se tipo in call of duty entri in casa di un americano sanno più armi loro che te riuscire da riuscire da fare per piacere eh no perchè ti mancano i paletti ah ma i bastardi no devi mettisci la scopa qua cazzo è vero io non ci sei merito ah no no, io non ho sbagliato un big fail un cazzo di niente eh sì ti dico io ti dico io io sono il grande saggetto se mi metti a rifletti cioè per l'amore ehm è molto bello questo gioco per essere un free to play che trovi sulla pagina all'inizio è proprio un browser game però insomma un tipo più o meno arriva dove arriva con la testa e basta questa roba, questa qui la porta e arriva fin qui con la testa ragazzi va bene che forse è difficile venire ad arrampicarsi con solo le braccia in pochissimi ci riescono però c'hai già qui una sedia e puoi mettere una sedia sopra una sedia oppure mettere il piede qui sotto eeeh donna mia potrei spostare un po' di roba qui dietro veramente è bello questo posto oppure cercare i proietti di sparare all'orso ah ti letto qui sopra ma che figata voglio vivere anche io qua è una casa di agli tipo eh no ma siamo più una casa da da Ascendentil più da Hayley è molto bella eeeh controlla nel cassetto qua si si è controllato ah si solo un cazzo di niente eh si si no 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 va bene non voglio leggere non voglio leggere ti prego eeeh diciamo geografica su no va a fanculo eeeh tu uuuu ah no va 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 a sinistra va si 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 aspetta forza usa la forza ti ricordi la forza la forza la forza eeeh cerca cosa che hai adesso possiamo usare qualcosa con la forza ragazzi e metti la scopa nel cielo no ma la forza che serve no prova usa la forza su no la scopa su sull'alce eh sta minchia tu picchi anima animo oops abbiamo staccato eh si un ramo il ramo lo usi per per eeeh si stavo pensando anche no no lo so io lo so io per le sbanghe lo usiamo con il polco tipo ah madonna è resistente quella è un po' alto per essere raggiunto madonna mia ragazzi cioè ti arriva fin ma posso raggiungerci con qualcosa vabbè non ha importanza in ogni caso penso che le travi vanno messe se 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 no vanno messe su guarda ho capito dove no qui 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 visto ho visto però non ci fa uscire eeeh mi sa che devi petta cioè lui non si vuole muovere che c'è una cosa che si muove lontano ecco no io una cosa che si muove lontano si l'orso eeeh perchè era il secondo video prima abbiamo fatto il gradito ragazzi quindi mi sta eeeh vai aspetta quella bollirezza d'acqua buttala sul fuoco ah no un container basta no aspetta un secondo no niente il lavandino non è un cesso non è un lavandino eh ci avremmo un lavandino qua no perchè è meno da parte eh appunto questo è brutto vedete cosa devo fare moriremo riempilo di vino vinooo cosa ha fatto ah è pieno buttalo nel fuoco ma scusa non dovrebbe fare un effetto molotov no il vino no no il vino no alcol etilico perchè dovrebbe essere troppo penso che è un peccato il vino eh è un peccato lo Robert Baratia sento già Robert che ci bestemmia contro ma ma come si chiama ma gli estremi estremi rimedi e qui è una roba inutile no 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 quello là è l'enigma e lo so ma è inutile ti ricordi che trovavamo qui dentro? eh no io ce la facevo non tu eh già tu ero inutile no proprio usa la scopa da sotto che magari toglie la polvere prova eh no sta minchia aspetta aspetta ah qualcosa lo strofinaccio no si lo strofinaccio eh visto? ma c'è una scopa che è piccola non ho capito la buona c'è che io non so che fare bene ragazzi poi tu ti allontani sempre ma no non è che mi allontani se sei andato fuori la mia voce sentirà meno di sicuro ragazzi no dovevi guardare i piatti non so dove sono i piatti eccoli qua e ne manca uno cazzo ah vado a caso lì allora due 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 l l al contrario ok mi sono già dimenticato benissimo ho la memoria di un criceto come te l'avevo inventata io questa battuta non è vero non è vero a dire il vero non è vero a dire il vero ah mi sta molestando non mi sta molestando a dire il vero l'ha inventata una mia professoressa di matematica in prima avete l'attenzione dei criceti ho un'idea così va al contrario ti ho divento io un fucile questo qui potrebbe andare bene guarda che dice poi però non hai proiettili c'è gli hai proiettili eh no guarda guarda c'è lì ma ah si combina combina ma scu ma figliolo ma figliolo ma sei stupido o cosa hai proiettili hai cosa di proiettili hai fucile ma tua madre vuole adesso vedi scansati non mi come faccio a scansare se mi scanso dopo non ci si andrà più la tua voce eeeh combina si va perché non mi sa che non va c'era un modo per combinare gli oggetti ti ricordi vabbè fa nulla fa niente fa niente ma che ti serve il fucile l'ho potuto a cosa infatti ragazzi era inutile il fucile perché diceva tipo non voglio sparare agli animali perché non era inutile questa l'immima difficile però era inutile sinceramente o mai ti avevo già detto io di mettere lo scopo ma tu no no non funziona e te l'avevo detto io è facile forse vuoi che vedere che usa così ma va insomma non credo che regga oi vabbè ma cosa mai qua taglio eh così dove ho messo si qui taglio ragazzi avevo visto le istruzioni eh guarda cos'era? ah no nether turn left ho sbagliato la corda forse la corda no 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 ho capito dove va la corda nel bagno che ti diceva non posso calarmi perché ho paura e butto la corda visto? adesso ringraziami ok ah no ah no lui non vuole uscire perché dobbiamo dovevamo narcotizzarlo mi ricordo io ma abbiamo bisogno ah il fucile narcotizzanti no non c'è questo ah no i narcotizzanti va bene fa niente dove gli troviamo i narcotizzanti fatta qua sopra qua sopra su dove c'è il vino cazzi niente eh cazzi niente 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 no e tu com'erai fa il culo mi sgami cosa? la zanzara la zanzara mi perseguitono di notte faccio delle vere e proprie battute di caccia io per ucciderli la zanzara retta non su la merda lo sai? eh? la zanzara retta non su la merda vabbè sono mosche ok ci siamo bloccati eh ok se nulla che faccio io scommettiamo che li risolvo vai su usala ok non voglio sapere cosa c'è qua fuori foto si va bene no ho paura ho paura mi fa paura sti qua ok non c'è nulla ben già fatto eeeh aspetta aspetta mi ricorda che dobbiamo combinare più cose con te vorranno eh non so che dobbiamo combinare più cose aspetta fucile bistecca non so cosa c'è ma sta roba qui è vergognosa c'è cosa? combinare fucile con una bistecca? perchè no? si parla dovevo fare io scusa forse nel quadro c'è qualcosa eh c'è esatto bravo si è arrivato dopo di me mmm già è un po' vergognosa sta cosa è molto vergognosa la forza forse dobbiamo rompere qualcosa la forza bum bum che è? vaffanculo mmm dai chiudi il gioco chiudi il gioco ah fucile alla finestra boh eh si sei andato nel cuo no mi sto freddendo come una migliotta lo sei? eh si prego dai perchè non usi la scopa e metterti qui vabbè aspetta devo risolvere io con tutta la calma del mondo si fa tutto posso farlo io? togli la mano ti odio io odio te sentite il petto? non mi ricordo i cuscini cushion pillole vai mister L le sue rimembrate perchè ragazzi noi abbiamo fatto un altro gioco che se vi piace lo portiamo ah non una cattiva idea però eh lo so io mi ricordo devo schiacciarle devo schiacciarle esatto no usa la forza figliola la corda la corda va via no mi rifiuto avevo visto anche prima già perchè funzionano male se non sono schiacciate questa funziona abbiamo la cocaina eh si lo combiniamo con la carne ok ora abbiamo con la carne combinata ma scusa ma se ne metti troppo non lo fai male allora se lo ammazzi no e come fai tu a saperlo? sei un medico? cosa lanci? non lo so il fuggi no dai cazzo usa un po' di forza no aspetta esci dalla porta cosa hai fatto? ho rotto la scopa e ho tenuto le travi no no con la corda ma che cazzo ah no la fa ah si ah si con la corda hai con la corda hai con la corda non è un genio no non lo sai eccolo qui l'orso oddio piscali ah si muove fa delle animazioni che carino vabbè ti arrivi a ca si si subito no non penso che uccide animali lo sappiamo già e non è che lo volevamo uccidere però c'ha delle zampe che sono mostruose guarda che so fa vedere si ma togli 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 la scritta io ero solo il tipo a cui piacciono gli animali anche anche se cazzo c'è una bella grediata con questo orso guarda che zampe di merda che cazzo ma non è un orso questo qua è un mutante è un mutante ma scusa ma tira lì tira lì la cosa vieni oh la morta mi piace molto di più così ah ma non vorrei ma non voglio più andare più vicino quindi e quindi 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 guarda un attimo che lui se vuoi uscire dalla porta da davanti gli dice eh dalla finestra devi uscire dalla finestra dalla finestra non lo sapevi ti tiro pugni finchè non svieni eh? ah devo avere fucile perché scusa non voglio uscire gli animali però voglio avere fucile pronto la forza sul barile non c'è la forza su ma poi non lo so l'aminta di stronzo abbiamo vinto eh più giochi più giochi più giochi più giochi more games dove sono? giochi qua qua no dai interrompiamo qua il gameplay ragazzi se vi piace era un gameplay stanzi ok e se vi piace ne portiamo un altro ciao a tutti ragazzi e ci vediamo saluta i crew no ok ciao a tutti